Buonasera, allora in questa puntata sappiamo, parleremo di politica, parleremo del covid, parleremo di tante cose, ma non si può non approfittare della presenza di Alessandro Gasman, uno degli attori italiani più importanti in questo momento, sempre attenta a seguire anche le vicende della cronaca e della politica italiana, perché c'è un omicidio che ha colpito tutti, l'omicidio di Colleferro, una violenza brutale nei confronti di un ragazzo. Tra l'altro Alessandro Gasman andrà a breve nelle sale con un film intitolato proprio Non Odiare, ne parleremo, ma intanto, ai suoi occhi, che Italia racconta la cronaca di Colleferro. L'episodio di Colleferro è sicuramente agghiacciante, ma non è l'unico, è sicuramente il più recente, il più terrificante, ma mi sembra di poter dire che a partire da quello che succede in rete, sui social, è come se fossimo ormai un po' a suoi fatti, da quanta violenza ci circonda, e questo secondo me è molto pericoloso, bisogna continuare a tenere accesa la luce e soprattutto io penso che noi siamo in un momento talmente drammatico per la società, c'è un'epidemia in corso, una crisi economica forte, guerre di fuoco, insomma siamo in un momento molto difficile per il pianeta, credo che sia arrivato il momento di cessare, di considerare chi non la pensa come noi, come un nemico da battere, da uccidere, ma semplicemente come un avversario con il quale cercare di parlare e per cercare di capire da dove nasce il suo odio nei tuoi confronti, e perché solo così, a mio modestissimo modo di vedere, si potrebbe riuscire a trovare una soluzione. Da dove nasce la nascita?